Gentile Ispettorio di Protagonisti in compagnia, una delle massime espressioni cinematografiche, soprattutto teatrali, campane, ovviamente sempre su scala nazionale parliamo pure, lui è Giacomo Rizzo. Ciao e benvenuto. Benvenuto a me, ma benvenuti a voi che siete qua in questa manifestazione che è il terzo anno che sono invitato e che mi fa piacere partecipare perché poi è una festa, insomma, ci si vede con tanti artisti, artisti veramente, e colleghi che non si rincontrano per anni. A proposito Giacomo, quanto è importante valorizzare le eccellenze partenopee in materia audiovisiva, al pari delle location, una come questa anche molto suggestiva, su scala appunto nazionale di quella che è poi la nostra regione? Sì, sinceramente sì, perché poi ci sono tante occasioni dove chissà perché non si invitano certe eccellenze partenopee, forse evidentemente non si ritengono, non all'altezza, ma insomma siamo un po' più lontani, e allora ogni tanto poi ci si ricorda, ma io non mi lamento mai perché sono ancora vivo, vegeto e lavoro, voglio dire, e viva. A proposito di lavoro, presentatore, conduttore, ballerino, un po' di tutto, soprattutto attore, DNA o professionalità, avevo 8-9 anni se non ero. Avevo 7 anni e mezzo quando ho debuttato, ma lo sanno tutti, forse le pietre non lo sanno, ma insomma ho debuttato 7 anni e mezzo, da quel momento in poi, in questo momento sta passando il produttore mio amico, Nicola Giuliani, col quale ho fatto l'amico di famiglia di Paolo Sorrentino. Ricordiamo, premio Troisi, cioè premio Sordi a questo punto. Sordi, premio Sordi, però non ho avuto né Davide né Nastro, no, 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 non so perché. Quello che tocchi diventa di successo, penso a Benvenuti al Sud. Sì, è stato un bel successo, speriamo che anche Benvenuti al Nord, quello che ho finito da poco, avrà i consensi che ha avuto Benvenuti al Sud e speriamo anche questo film che ho fatto con un nuovo produttore che è Andrea Iervolino, che si intitola Napoletans, che è il protagonista, e Maurizio Casagrandi che questa sera presenterà a condurare la serata. Ascolta Giacomo, chi ha inciso di più nell'evoluzione della tua carriera? Penso a Mario Merola, la Sessa Maggio, Carlo Taranto, i fratelli Gioffre, no? Cioè, anche come Sud Alizio ti parlo. Non saprei dirlo, perché poi uno comincia a fare questa attività e poi capita che incontra tante persone. Indubbiamente Merola, in un certo periodo della mia carriera, ha potuto contare, perché ho fatto una sceneggiata di grande successo, che poi ho fatto solo quella, come esperienza. è stata magnifica e poi chiaramente Rosaria con Rosaria ho lavorato, insomma. Con Carlo abbiamo fatto una sola commedia in sei anni, sette anni, dove io... Lui sa conta, no? Sì, ma dove io non ero fisso, perché non mi piaceva fare l'attore della stabile, perché mi sono sempre ritenuto uno instabile, non potrei mai pensare di fare una stabile. La cosa di stabilità. Un regista con cui vorresti lavorare e un ruolo che vorresti impersonare? Ah, beh, un ruolo... Io vorrei fare intanto una commedia musicale e poi vorrei fare un film con Pupi Avati, ma Pupi Avati non credo si interessi a certi tipi di attori. L'ha fatto con Serena Grandi. Ma Serena Grandi aveva delle grandi, voglio dire, possibilità. Non so se io... Voglio dire, no, ma non è vero. Dovrebbe nascere un'occasione. Io purtroppo lo incontrai, ma lui mi disse che non aveva visto l'amico di famiglia, perché non aveva visto i film di Sorrentino. Insomma, non fui fortunato. Io fondamentalmente, tra tante attività che tu fai e pratiche su palcoscenico, ti congi soprattutto un attore comico, no? Come nasce una battuta? È la battuta che senti più tua nel tuo intimo? È quella anche di un tuo collega? Ma non lo so, io non sono un battutaro, io sono un comico che all'interno di una situazione comica inventa la battuta. Non sono un battutaro, perché i battutari sono altri, quelli che fanno il cabaret e fanno le battute. No, io sono uno che crea una battuta in una situazione comica. Infatti noi che facciamo gli attori comici parliamo di situazioni comiche e all'interno poi ci inventiamo le cose. Le famose sitcom, no? No, ma come il più grande che tutti, come Totò. Non credo che Totò avesse un repertorio di battute. Nel momento le faceva. Come nacque quella cosa, mi raccontava Gianni Agus, che ho fatto un paio di film, mi raccontava che quella famosa scena dove poi Steno lasciò la macchina da presa e se ne andò, perché Totò doveva dire soltanto, scusi lei, lei l'ha detto? Chi gliel'ha detto? Questa era la cosa. Invece fu una cosa che non finiva mai, lei l'ha detto, ma chi gliel'ha detto? Quando uno l'ha detto dice, guarda io l'ho detto, vabbè se l'ha detto lei, lei l'ha detto, ma se lei non l'ha detto come fa di lei? Io sono un addetto. L'ha detto lui, ma lui chi è? Lui che l'ha detto. Non l'ha detto nel momento che lei l'ha detto, fa l'addetto. E non si finiva più, perché Totò ne inventava tutte. Perché Totò era un grande comico, forse il più grande di tutti, e rimarrà forse il più grande di tutti, perché era un comico che faceva il non-sense a sua insaputa. Non credo che lui pensasse di essere un comico del non-sense. Voglio dire, Woody Allen è uno che quando scrive, recita, sa quello che fa. Totò era talmente istintivo che era un comico che faceva il non-sense, e non lo sapeva, non avrebbe detto, signore, ci nasce, io non nacqui, nel senso, oppure mi dia una sigaretta. Ce l'ha? Non fa niente. Una cosa che poteva inventare lui, non poteva inventarle nessuno, per la verità. Intengo che Totò sia stato quello che mi abbia fatto capire che avessi questa esigenza di fare l'attore. I comici appunto toscani si possono equiparare a quelli campani? No, io non farei mai paragoni. Io dico che oggi il comico più straordinario è Enrico Brignano, perché ritengo che è romano, ma poteva nascere anche a Milano, a Cremona. Io non sono del parere che i comici nascono qui, nascono lì. I comici sono comici. Quelli bravi nascono a Napoli, a Milano, a Roma, a Torina, a Cremona, a Piacenza, a Lecce, a Bolzano, in Sicilia, e quelli che non sanno fare niente nascono dappertutto. Per la verità. In ultimo, una domanda un po' più friola. La tua donna ideale... È lunga questa cosa, è lunga. La tua donna ideale... Colpa mia, colpa sua. La tua donna ideale e i requisiti psicosomatici che deve rivestire? Non ho capito. La tua donna ideale... La mia donna ideale deve essere molto giovane. Perché ritengo che tutti quegli uomini della mia età che dicono che non gli piacciono le giovani mentono spudoratamente. La donna giovane è bella, non c'è niente da fare. Se se ne possono avere quattro di venti al posto di uno di ottanta è la migliore delle cose. Le bugie poi sono tantissimi pinocchi. Poi voglio dire, se uno nella vita ha possibilità di uscire con una che... insomma, quando poi si dice che una persona ha fatto male perché è stata con una giovanessima ma non era Santa Maria Coretti era una che faceva di professione la cosa di alto bordo, voglio dire. Poi si è trovata lì, insomma. E' pagata. Giacomo, salutando ai nostri telespettatori la trasmissione siamo i protagonisti. I protagonisti a che centro io? Perché si chiama i protagonisti? Come Dio ci sarà. C'è anche un motivo? Lo mettono sotto? Che motivo è? Tu ne sei l'emblema. No, vabbè, io sono uno che nella vita ha cominciato che credeva di fare l'attore poi ci è riuscito. La cosa più bella, sapete qual è? Che io lavoro più adesso che quando avevo 40 anni. Questa è la cosa che mi fa piacere perché quindi si allunga la vita, voglio dire. Però, insomma, a quell'epoca mi avrebbe fatto piacere se avessi guadagnato qualche soldo in più. E' tutto il sistema. Grazie Giacomo. Grazie. Grazie.